Una colazione sana, nutriente e con un ingrediente che mai ti aspetteresti. Grattugiamo finemente delle carote, aggiungiamo l'olio di semi e frulliamo il tutto. Aggiungiamo due uova intere, acqua e come dolcificante utilizziamo la nostra confettura di perezzenzero. Diluiamo la nostra confettura di perezzenzero in un pochino di acqua e aggiungiamo anche lo zucchero. Prepariamo le farine, farina di ceci, farina 00, lievito per dolce e vaniglia. Le aggiungiamo ai nostri liquidi e mescoliamo per evitare la formazione di grumi. Montiamo a neve ben ferma due albumi e li aggiungiamo al composto mescolando dal basso verso l'alto. Imburriamo e infariniamo una teglia da muffin, aggiungiamo un po' del nostro composto e al cuore un cucchiaino della nostra confettura di perezzenzero. Inforniamo a 180 gradi per circa 30 minuti ed ecco i nostri muffin, croccanti all'esterno ma con un cuore soffice e morbido all'interno. croccanti all'esterno, le ceci non si sentono, troppo buone. croccanti all'esterno ma con un cuore soffice e morbido all'esterno ma con un cuore soffice e morirano. Grazie a tutti.